Allora, elementi e componenti. Questo l'abbiamo già in parte visto, fatemelo ripetere velocemente. Quando creiamo un elemento in GSX con il rendering, associamo ovviamente quell'elemento al suo nodo in cui andremo poi a inserirlo. L'elemento è poi di un certo tipo, che è il componente, quindi usa un componente, il componente viene definito da una funzione e anche ci sono una serie di componenti predefiniti come il div, l'h1 eccetera, che a loro volta sono componenti che possono essere utilizzati come istanze. Quello che mettiamo nel render di un componente è una serie di elementi che vengono chiamati element tree, perché è un albero degli elementi a loro volta utilizzati. Un elemento, come vi dicevo prima, è un oggetto che descrive un'istanza di componente o un nodo del DOM, nel caso dell'h1, del div e quant'altro, con tutte le sue proprietà definite. E quindi è una rappresentazione di un elemento nel DOM virtuale, che contiene informazioni sul tipo del componente, è un bottone, è un div, è un navbar e un quant'altro. Si ha delle proprietà, il variant primary di prima, in quel caso un colore, e eventuali figli che quel componente possa avere. Quindi se è un bottone, magari è un figlio che è prettamente testo. E quindi una descrizione di come una porzione della pagina sarà visualizzata e creata. Per creare un elemento, questa è la sintassi non GSX, ma per creare un elemento ci servono comunque tre proprietà. Uno è il tipo, quindi qual è il componente da cui quell'elemento si sta inizializzando. Il secondo sono le props, che è un oggetto semplice che può contenere attributi del DOM, per il nodo del DOM, il tipo SRC, HRF, ALT, TITLE e quant'altro. Valori arbitrari per i componenti, quindi in una props ci può essere un array, ci può essere un altro oggetto, ci può essere un oggetto di array e quant'altro. E si rappresenta come proprietà dell'oggetto, in genere uguali quando esistono a quell'HTML, tranne nei casi come CLASS, per cui è CLASS NAME, o FOR, che diventa HTML FOR, perché il FOR è di nuovo una parola riservata. E poi i figli, che sono quelli che sono contenuti nel componente, che possono essere o delle stringhe, o un numero, o un elemento, o un array di nodi a sua volta. Convenzioni. Gli elementi del DOM sono sempre minuscoli, mentre i componenti React, fatti da voi o fatti da altri, sono sempre uppercase, come fossero CLASSI. Ovviamente i due elementi si possono unire, mischiare, annidare e quant'altro, perché appunto React è dichiarativo e quindi si lavora sempre per composizioni, e l'albero degli elementi rappresenta la porzione del DOM virtuale che si vuole visualizzare. Come vi dicevo prima, noi useremo, e la maggior parte dei sviluppatori React, utilizza JSX, che sta per JavaScript Syntax Extension, che è un modo più simile all'HTML, basato su frammenti di XML, per scrivere componenti ed elementi, per scrivere elementi React in maniera più snella e leggibile, e questi componenti sono poi espansi durante il rendering della pagina HTML vera e propria. La sintassi JSX usa, è simile alla sintassi HTML, quindi c'è un tag che si apre, un tag di chiusura, oppure ci può essere tag direttamente close slash, dovunque ci sia un'espressione che è sintaticamente valida per JavaScript, quindi JSX si può usare non solo in componenti, ma anche per esempio all'interno di array, io potrei avere un array di elementi JSX. Quando ce n'è, quando lo si usa come elemento, come variabile, come porzione di un array e quant'altro, in genere si mette tra parentesi tonde per la leggibilità, per chiarezza, ma non è ovviamente obbligatorio. Ovviamente prima di esaurare un componente, se definito da un'altra parte, bisogna importarlo, esattamente come se ne avessimo un oggetto in un altro file JavaScript. I tag sono convertiti, i tag HTML si usa un elemento standard, diciamo, sono convertiti in props, quindi color uguale blu diventa un oggetto che ha color come chiave e blu come valore. Altri oggetti possono essere specificati come un'espressione JSX, quindi shadow size uguale 2, e come un'espressione JavaScript, quindi shadow size uguale 2, con 2 tra parentesi graffe, o log uguale true, o si possono usare anche espressioni JavaScript più complicate, come color uguale say warning level debug, allora gray, altrimenti red. Ogni espressione JavaScript valida e quindi accettata, perché qui alla fine è comunque un file JavaScript, così utilizza la sintassi JavaScript. I figli di un componente, di un elemento, sono anche passati, quindi quello che scriviamo dentro my component hello world, quindi questo hello world sono passati come figli nelle props, quindi ogni volta che c'è una props ci può essere anche una props.children, che prende gli elementi al loro interno, il contenuto interno a un tag, sia essi delle stringhe, siano essi degli altri elementi JSX. Quindi di nuovo, qualunque cosa che poi il componente qui all'interno può capire, che è valido, c'è JavaScript, può essere utilizzato e passato. incluse espressioni, come vi dicevo prima, per cui io qui posso avere una variabile menu, un componente menu, che è definito come un ul e se l'utente è loggato, quindi se questa variabile è true, visualizzo il componente user menu, altrimenti visualizzo il link di login. quindi posso avere un JSX che è dentro il JavaScript, che a sua volta è dentro il JSX, che a sua volta è dentro il JavaScript, perché alla fine è tutto JavaScript. in JSX i valori undefined, null e true o false non sono renderizzati. Quindi possono essere utilizzati per condizionalmente decidere se visualizzare o meno un componente, ma in qualcosa che è undefined, null, true o false, non viene visualizzato, non viene renderizzato. In HTML alcuni componenti, alcuni attributi non hanno un valore, come per esempio selected o disabled, in JSX un valore booleano invece può essere assegnato. fino a un certo punto nel passato questo era obbligatorio, soprattutto se il vero, adesso non è più obbligatorio, ma per coerenza con altre proprietà che uno può utilizzare su un elemento, è in genere bene inserire sempre true o false, giusto per ricordarsi quali sono i valori di quell'elemento. Quindi selected e disabled diventano selected uguale true o disabled uguale true nel caso in cui siano attivi. Questo è opzionale. Commenti. Non ci sono commenti in JSX, la sintassi HTML non funziona. Se si vuole inserire un commento in un file JSX, come può essere un'app.jsx, bisogna aprire la parentesi graffe e scrivere un commento JavaScript, che è brutto, ma ho così, ho niente commenti. I nomi degli attributi del DOM vengono anch'essi modificati di conseguenza, alcune volte, un po' per l'uniformità di questi eventi sintetici di cui vi dicevo prima, un po' per renderli simili e più coerenti con la sintassi JavaScript, quindi gli attributi che erano scritti tutti minuscoli diventano camel case, on change diventa on change con la C maiuscola, e gli attributi di stile scritti in line diventano un oggetto a loro volta, quindi per scrivere lo stile color due punti white dovremmo scrivere stile, stile aperta graffa e dentro quell'aperta graffa che identifica l'espressione JavaScript, un'altra aperta graffa color due punti white che identifica l'oggetto JavaScript, come per la manipolazione del DOM margin meno top, padding meno bottom, eccetera, diventano camel case, perché il meno non è una lettera valida all'interno di una variabile JavaScript, e i valori che sono in CSS sono poi rappresentati come stringhe, come nel caso di color white. Esiste anche una sintassi spreading, nel caso in cui vogliamo passare abbiamo un certo oggetto che ha delle proprietà e vogliamo passarle tutte insieme, quindi se abbiamo un oggetto che si chiama welcome, che ha una proprietà MSG e una proprietà recipient, e vogliamo entrambi passarle come props, possiamo o passarle esplicitamente come props, quindi MSG uguale welcome.msg, recipient uguale welcome.recipient, dove il primo MSG e il primo recipient è un nome che diamo noi, in quanto sono due props che passiamo al componente, oppure possiamo usare l'operatore di spread, quindi triplo punto welcome, e le proprietà a questo punto si chiameranno sempre MSG e recipient, perché sono gli stessi valori che sono inseriti all'interno dell'oggetto. Altri pro memoria, come vi dicevo prima, la classe HTML si chiama class name, perché class è la parola riservata, l'HTML for, il for HTML si chiama HTML for, sempre perché for è una parola riservata, e entità HTML con tipo e-commerciale LT, e-commerciale copy, eccetera, potrebbero non essere supportate direttamente in JSX di versioni più vecchie, e quindi è sempre consigliabile utilizzare direttamente i caratteri Unicode all'interno di un'espressione JavaScript, tanto JavaScript supporta lo Unicode, o direttamente, oppure con la sua sequenza di escape, se preferite per qualunque motivo. e questo è sulla sintassi. Come vi dicevo, i componenti li possiamo dichiarare come funzioni, l'abbiamo già visto, che prendono una props come input e hanno un return opzionale, e hanno un return sempre invece obbligatorio con la lista degli elementi, con l'albero degli elementi, come return. I componenti sono funzioni, si possono quindi creare come volete l'importante che siano funzioni, quindi arrow function, function expression, named function expression, e quant'altro. Devono ovviamente obbligatoriamente ricevere una props, se hanno un argomento, l'argomento è la props, e devono obbligatoriamente restituire un albero di elementi React. come ben detto prima, devono essere funzioni proprie, e devono essere, funzioni pure, e devono essere dempotenti. In React è normale avere diversi componenti piccoli, perché uno potenzialmente potrebbe avere dentro app tutto, ma quello che tipicamente si fa è, si definisce qual è l'insieme minimo di componenti che si vuole avere, e a quel punto qual è il livello minimo, che cos'è un componente per noi, qual è l'elemento che vogliamo rappresentare, il fragment, l'interfaccia che vogliamo rappresentare, e a quel punto si costruisce un componente su quello. Quindi la navbar potrebbe essere un intero componente, un intero componente che può essere fatto di vari altri pezzi, e questo può anche essere addirittura in un file separato, non necessariamente tutto in app. Quindi ogni componente si costruisce sempre componendo altri componenti e le loro props, e se un componente diventa troppo complesso, e in genere è una buona idea, estrarre i componenti che possono essere di per sé potenzialmente riutilizzabili come componenti indipendenti. Quindi un componente button potrebbe essere un componente che può essere estratto e riutilizzato, perché ogni volta che c'è un bottone, si potrebbe utilizzare quello, anche se è al di fuori del componente stesso. Essendo JavaScript si possono utilizzare i metodi di manipolazione degli array, se voi voleste creare una lista, quindi per esempio map, con una caratteristica, quando si utilizzano liste o quando comunque si utilizzano insiemi di elementi o di contenuto, univoci, o almeno distinguibili, che ogni elemento di una lista deve avere un attributo che si chiama key. Quindi quando si crea una lista, e poi non c'è in questo esempio, ma suppongo ci sia dopo, dobbiamo anche avere un attributo, obbligatoriamente avere un attributo key. Se non c'è, la lista si potrebbe renderizzare correttamente in React ugualmente, ma React utilizza quell'elemento key per capire quali sono gli elementi nel virtual DOM che sono stati cambiati all'interno di una lista, cambiati, aggiunti, rimossi, e quindi se questa chiave, che ovviamente deve essere univoca, è assente o non è univoca, il risultato che vedete a schermo potrebbe non essere quello che vi aspettate, perché React non sa quali elementi all'interno di una lista state modificando, cambiando o rimuovendo. E questo può portare l'assenza o la presenza di chiavi duplicate e React da un warning in questo caso, può portare a comportamenti strani per cui voi cancellate un elemento nella lista e in realtà ne viene cancellato un altro che non è quello che volete voi, o viene cancellato quello che volete voi e anche un altro che non è quello che volete cancellare. Quindi React internamente utilizza, anche se non c'è bisogno da un punto di vista del codice, ma internamente utilizza questo attributo key speciale che deve avere un valore univoco perché viene utilizzato internamente da React. Quindi, per esempio, li key number oppure li key to do.id se avete già un identificativo univoco per quella chiave. di nuovo, questo attributo key deve essere specificato ogni volta che c'è una lista, comunque un elenco di elementi al suo interno che possono essere ordinati, filtrati, cancellati e quant'altro. L'unicità, però, è richiesta solo all'interno della stessa lista. Quindi se voi aveste due liste diverse, queste due liste potrebbero avere anche i di in comune. l'importante è che all'interno della stessa lista, all'interno dello stesso componente, l'id sia univoco. Quindi non è necessario che siano globali sulla pagina e questo attributo key è anche un qualcosa che non è disponibile come props per il componente. Quindi non può essere passato al componente e al figlio, per esempio. Ma è solo un qualcosa che viene utilizzato dal React per decidere, capire se qualcosa è stato cambiato nel rendering della lista. Come vi dicevo anche prima, abbiamo visto nell'esempio, ogni componente deve ristornare un elemento, un tree, un albero di elementi che abbia un'unica radice e dato che questo non è sempre possibile, React ha introdotto un componente che si chiama un nodo che si chiama React.fragment che viene poi indicato con quella sintassi che abbiamo visto prima nell'esempio di questo minore e maggiore aperto e chiuso. Questo è un React.fragment che serve appunto per contenere più elementi in modo da avere un singolo nodo e poi questo non viene renderizzato nella pagina in HTML. È un container vuoto in un certo senso. Per cui se avete bisogno di un container perché dovete dargli dello stile come un div e quant'altro ha senso usare un div ma se non c'è bisogno di un container ed è solo una richiesta di React di avere un unico elemento padre allora il React.fragment è quello che viene utilizzato per risolvere questo problema. Ok? Questo è un pochino più dettaglio di quello che abbiamo già visto quindi vi può servire come riferimento. quello che andiamo a fare adesso è provare a mettere in pratica queste cose quindi con questo esercizio 8 che ci chiede di fare due cose prima di tutto creare un progetto che si chiami React-QA e inserire in app.jsx il codice per caricare un insieme di domande e risposte fake finte in oggetti javascript e nel repository del corso di questa settimana ho già creato un file che si chiama question and answer models che essenzialmente è lo stesso file che abbiamo usato che avete usato la settimana scorsa per fare l'esercizio quindi ha che a sua volta derivava da esempi passati che abbiamo fatto quindi ha il suo oggetto answer il suo oggetto question un metodo per aggiungere domande risposte un metodo per prendere le risposte e poi una classe una funzione init per inizializzare le varie risposte in maniera statica all'interno dell'oggetto stesso ok quindi questo è già sul è già online e import importa dei js quindi andrà installato e poi esporta sia question sia answer a chiunque ne abbia bisogno quindi questo è lo stesso file le stesse metodi e le stesse funzioni che abbiamo già creato più e più volte in passato quindi ci chiede di creare un progetto e di inserire il codice per caricare l'insieme di domande e di risposte poi ci chiede di definire i componenti partendo dalla pagina in html sviluppato negli esercizi passati quindi indicare quali sono i componenti che abbiamo bisogno per ricreare la pagina e quali sono le informazioni che sono richieste da ogni componente e poi implementarli e questi componenti per ora non devono essere interattivi quindi i bottoni non funzioneranno e quant'altro quindi in maniera simile a quello che abbiamo fatto in html e css tre settimane fa ok quindi iniziamo con creare un nuovo progetto quindi npm create byte at latest e questo lo dobbiamo chiamare react-qa questo sempre un progetto react sempre in javascript a quel punto installiamo tutto e verifichiamo che funzioni in maniera simile a prima e si installiamo tutto e lanciamolo npm run dev e ovviamente la schermata di default funziona ok allora stoppiamolo e decidiamo che cosa innanzitutto ci serve installare cosa ci serve installare per fare la nostra tabella con l'elenco delle risposte djs poi djs per forza bootstrap e react-bootstrap e direi basta quindi le installiamo e a quel punto loro compaiono nelle dipendenze dentro il package punto json poi il readme direi che non ci serve più e dobbiamo spostare questo qa model dentro src e allo stesso modo questo assets che c'è il logo di react non ci serve più e anche il logo di white direi che non ci serve più ok quindi l'esercizio diceva creare un progetto e in app jsx inserire il codice per caricare un insieme finto di domande risposte quindi svuotiamo l'index css che non ci serve e svuotiamo anche l'app css che non ci serve più e il main non lo tocchiamo perché non abbiamo niente da fare lì e in app invece andiamo a svuotare app e il suo return perché dobbiamo andare invece a modificare che cosa fa app quindi svuotiamo interamente il il file ok fin qui ci siamo ho solo cancellato cose per ora niente di particolare inclusi il file css così non non influenzano con bootstrap ok poi l'esercizio che continuo a chiudere ci dice inserire inserire in app gsx il codice per caricare l'insieme di domande e risposte quindi una domanda e le sue risposte in un oggetto javascript cosa facciamo quindi dobbiamo importare il file innanzitutto quindi importiamo question in realtà qua serve solo question da qua models poi come la creiamo nell'insieme vuoto di cose in maniera simile a quello che abbiamo fatto in html ci serve la domanda e le sue risposte in un oggetto javascript quindi allora in qua model abbiamo un costruttore per le domande e poi a quel punto abbiamo già una serie di risposte in questo metodo init quindi l'importante è creare la domanda e per quel punto si può inizializzare quindi come creiamo la domanda? const chiamiamola fake question così ci ricordiamo che uguale new question e passiamo per esempio mettiamo sempre la stessa domanda è javascript meglio di python e sempre con le stesse proprietà quindi vuoi la mail di chi ha fatto la domanda e la data 2024 0207 e a quel punto possiamo inizializzarla fake question punto init quindi fake question punto init crea le risposte di quella domanda e semplicemente va a riempire this punto answer giusto? giusto? c'è qualche problema nell'averlo fatto lì fuori da app? no ci serve strict mode non ci serve ok domanda numero uno c'è qualche problema nell'averlo fatto lì fuori da app? sarebbe stato meglio farlo dentro app? no chi dice che va bene lì dove l'abbiamo fatto? rifaccio la domanda chi dice che va bene che l'abbiamo fatto lì dove l'abbiamo messo? ok chi dice di no? ok chi dice di no? perché? perché forse quando chiede il component non viene preso il no quindi in realtà in questo caso va bene dove l'abbiamo fatto questo sono informazioni in un certo senso globali che non sono che poi toglieremo a un certo punto ovviamente non lasceremo la domanda perché abbiamo un server col database quindi andremo a recuperarle dal posto giusto ma per ora sono informazioni globali e quindi tanto il file javascript viene letto tutto tutto file javascript e non sono informazioni che servono necessariamente per renderizzare il singolo componente ovviamente sono informazioni che servono per far partire il componente ma non sono strettamente necessarie per la renderizzazione la creazione solo di quel componente e noi in un file gsx potremmo avere più componenti in questo caso manterremo solo app però in un file gsx si possono avere più funzioni che le scrivono componenti non è necessario avere un file un componente in generale quindi per ora va benissimo averlo lì ma avremmo potuto anche metterlo in function put up ma dato che poi i codici che buttiamo via va bene lì così è più facile rimuoverlo e non toccare il componente poi l'altra cosa che ci chiede il testo è di avere un elenco dei di avere un elenco dei fatemi prendere la cosa fatta in html l'altra volta di creare un elenco dei componenti va bene questo di creare un elenco dei componenti per creare questa pagina allora quali sono i componenti che vorremmo la nabbar allora ci dice partendo dallo schermo della schermata fare una lista di componenti con eventuali proprietà quindi ci serve scriviamolo rifacciamo il ritmico cancellato così lo scriviamo lì allora ci serve la nabbar ok poi la domanda questo spazio qui la descrizione della domanda va bene descrizione domanda poi e questo non lo facciamo come componente ok quindi tu dici un componente per le risposte che contiene un componente titolo che contiene answers che era un H2 e poi la tabella giusto? facciamo un unico componente con la tabella o facciamo un componente per ogni riga un mega una mega componente tabella sicuramente un componente tabella ci serve perché non è che sì ovviamente il componente è quello che descrive come è fatto una cosa quindi ci sarà un componente tabella che dirà ci saranno delle righe qua dentro poi quante righe sono una per ogni risposta e quello sarà sull'istanza quindi sì un componente possiamo fare un componente tabella che a suo interno avrà un un componente riga quindi abbiamo la navbar che in realtà contiene solo il titolo quindi quindi anche qui la navbar avrà probabilmente un componente interno che rappresenta il titolo usiamo la navbar di bootstrap quindi ci prendiamo quello che che ci dà però la navbar non ha senso avere un componente staccato la navbar la descrizione della tabella anche qui ovviamente avrà sarà diviso in più parti perché ci sarà questo titolino ci sarà questo a destra eccetera poi abbiamo un unico componente grosso che abbiamo chiamato risposte che avrà il titolo e la tabellona e poi abbiamo un componente riga qualcos'altro? il componente header il componente header dato che ce n'è uno solo non ha senso definirlo apposta fa parte della tabella e il footer sì sì poi c'è un componente footer fuori dalla tabella fuori da risposte quindi ok e questa non la facciamo questa riga qui quest'ultima riga qui non la facciamo quindi questa la saltiamo quindi non ci sarà qualcos'altro? i bottoni dentro la riga i bottoni dentro la riga sì il td ogni riga avrà i suoi td ovviamente con le sue informazioni all'interno però quelli sono td quindi sono già componenti diciamo non andiamo fino a quel livello perché allora anche la stringa dentro no? sì ci saranno i bottoni dentro una colonna assolutamente dentro un td così come ci sarà un contable header però ovviamente non è un componente che dobbiamo fare noi ci sarà già volete fare un componente che rappresenti le informazioni diciamo così dinamiche della tabella che sono queste prime quattro e un componente che invece è sempre identico che rappresenta i tre bottoni lui dice di sì quindi andiamo con la sua allora dentro la riga avremo un componente che si chiama dati e un componente azioni così tanto le azioni non cambiano mai ed è un unico componente da ripetere identicamente per ogni riga invece i dati cambiano ok questa è la lista di componenti che props quindi che informazioni ci servono per ognuno di queste dunque la navbar ci serve qualche props per fare la navbar quindi qualche informazione da passare che potrebbe cambiare in un'altra pagina con un'altra domanda con altre risposte per la navbar l'id della domanda il navbar ha come props il numero della domanda poi la descrizione della domanda ha di nuovo il numero della domanda la domanda e l'autore quindi numero domanda domanda autore mail poi il componente risposte che props ha mettiamolo qui nel componente padre perché tanto riguarda tutto che props possiamo passare al componente al mega componente risposte quindi il titolo la tabella e quant'altro che cosa gli serve le risposte la lista delle risposte ci servono altri dati da passare a questi componenti che non siano dati statici quindi che scriviamo noi uno alla volta le chiavi nella tabella ci serviranno sì e quale potrebbe essere la chiave nella tabella le d abbiamo le d della risposta possiamo usare quella è già un id è già diverso i bottoni sono statici sono sempre gli stessi tre quindi è come fosse testo non dobbiamo passarli in questo momento come props perché vogliamo fare una versione statica in cui ci sono i tre bottoni ma cliccando non succede niente quindi se no avranno bisogno anche loro di informazioni ma in realtà è l'informazione della risposta tipo l'id quindi l'avremo già passato qualcos'altro secondo me no quindi ok e queste sono le cose che ci servono quindi questi sono componenti principali e loro props ok allora facciamole allora che cosa ci è benedetto il primo componente che ci serve è una navbar quindi allora dato che bootstrap ha già un componente facciamo allora abbiamo due scelte o molteplici scelte diciamo i due estremi sono ognuno di questi componenti che abbiamo creato che abbiamo elencato finisce in un file a parte quindi la navbar avrà il suo file navbar la descrizione della domanda avrà il suo file descrizione della domanda e la sua la tabellona avrà il suo file risposte l'altro estremo è mettiamo tutto dentro app perché la navbar sarà una navbar ma usando bootstrap avremo il brand avremo i colori da definire quindi ci saranno delle proprietà nel componente quale opzione scegliamo tutto dentro app file separati file separati quindi la navbar la navbar ci serve un nome per un componente che non sia navbar credo che non sia navbar perché navbar come lo chiama bootstrap quindi se no chiamiamo il componente lo stesso modo quindi nav nav navhader chiamiamolo ok quindi ci serve poi un file sempre dentro src che andiamo a chiamare navhader punto jsx in cui andiamo a fare una funzione che si chiama navhader che avrà un return che ritornerà alla nostra navbar ok ok e poi facciamo export default navhader così in app possiamo importare questo possiamo anche metterlo in app gsx sotto la funzione app adesso come dicevo prima abbiamo preso la scelta di aver file separati per i componenti principali quindi avremo un file per la navbar avremo un file per le risposte domande e poi avremo un file per le risposte ma questo file per le risposte avrà dentro tutti questi componenti quindi non saranno 27 file diversi ok navhader quindi lo possiamo importare abbiamo detto che navhader serve quale proprietà? lì ti dà la domanda quindi question number question num uguale aperta graffa fake question punto id che è uno in questo caso ok poi abbiamo detto che ci serve bootstrap quindi dobbiamo importare il css di bootstrap che è import bootstrap slash dist slash css slash file bootstrap punto min punto css quindi file css vero e proprio e questo non l'abbiamo visto sul sito di react bootstrap ma se andate sul sito di react bootstrap vi dice esattamente cosa fare che importate il file css nella nell'applicazione principale in modo che tutti poi possano utilizzarlo se serve a tutti quindi noi lo importiamo qua e tanto tutti i componenti di app così possono accedere quindi la navbar apriamo però la documentazione di bootstrap a questo punto quindi react bootstrap vedete sul sito ha una serie di se vuoi mettere la versione chiara ha una serie di componenti tra cui la navbar per cui qui c'è la navbar complessa come con il link con il drop down eccetera ma essenzialmente ha una navbar c'è un componente navbar al suo interno c'è un container con un navbar punto brand e e così via e anche qui può esserci un navbar punto brand con l'immagine senza immagine e quant'altro quindi le varie opzioni che ci sono già in in bootstrap quindi qui avremo bisogno di questo navbar che non è definito perché dobbiamo importarlo import navbar from react bootstrap ok la navbar se vogliamo farla come l'abbiamo fatta in precedenza avrà come colore di background quindi proprietà bg primary come stringa e come variante dark questo sempre se andiamo a vedere la documentazione ci dice che per cambiare il colore c'è vogliamo impostare background possiamo usare background dark e se vogliamo cambiare il colore da qualche parte c'è ancora una variant anzi non variant perché l'hanno deprecato quanto varie in bootstrap quindi bisogna usare data bs team dark invece che variant dark quindi però questo è di nuovo e bootstrap a componenti a questo punto come nell'altro caso ci siamo un container e dato che abbiamo solo il che lo mettiamo fluid e dato che abbiamo solo una nav la brand mettiamo navbar punto brand brand e il nostro nav punto brand è over ip over run domanda numero e qui ci serve diceva anche il numero l'ho chiuso ci serve il numero che in questo caso è 1 quindi questo numero l'abbiamo passato come props quindi mettiamo props qui nel come parametro della funzione e a questo punto qua possiamo scrivere props punto question num ok poi chiude il navbar brand chiude il container e chiude il navbar brand quindi questa props l'abbiamo dovuta passare ovviamente qui come question num quindi siamo dovremmo essere a posto ed anche a voi questo sottolineatura rossa d'errore a qualcuno si a qualcuno no ok questo è interessante questo questo se vedete l'errore non è un errore e in realtà questo è slint che viene installato con a quanto parla qualcuno solo e viene installato con col progetto react questo è un linter per javascript che quindi vi dice quando non state rispettando delle best practice quando ci possono essere potenziali problemi di validazione delle informazioni e quindi dice question num non c'è nella validazione delle props per questo componente perché in questo componente non c'è nessun tipo di validazione delle props essenzialmente quindi non è un errore di sintassi nel senso che tutto funziona però è un errore il linter lo identifica come errore perché può essere è un warning in un certo senso occhio che questo non è stato validato e quindi questo question num potrebbe essere qualunque cosa e state attenti che ci deve essere deve essere un numero e quant'altro quindi se voi volete togliere questo errore o disinstallate eslint quindi npm remove eslint e questo risolve il problema oppure quello che bisogna fare è lo dico solo perché gli compare e lo faccio vedere qui bisogna importare una cosa che si chiama prop types da prop types minuscolo e questo capiterà tutta la volta che c'è un props e quindi dire che navader punto prop types con la p minuscola però è uguale a e qui indicare le validazioni delle proprietà delle props che ci sono quindi dire che question number che è l'unica props che c'è è di tipo in questo caso number e questo è un un oggetto javascript che l'inter riconosce e vede e quindi se props types non sarà un numero dovrebbe poi segnalarlo in fase di runtime come errore come warning questo toglie quel questo non è strettamente necessario questo serve solo per togliere quel warning e toglierlo in maniera corretta perché si può anche sopprimere quindi per chi compare tre opzioni uno supprimere il warning due rimuovere S-lint tre fare così per ogni funzione che ha una props e per sopprimere il warning fatemelo tagliare basta andare qui e dire quick fix e selezionare disable prop types o per questa linea o per tutto il file nel caso ce ne sia più uno io ve lo lascio qui visto che a me compare questa sottolineatura ok da prop meno types quindi si importa prop types con la p la t maiuscola da prop meno types tutto minuscolo e poi l'oggetto che si applica alla funzione è prop type con la p minuscola e la t maiuscola perché se fate navide il punto prop type con la p maiuscola non funziona perché quella invece è un enum e questo è un oggetto quindi se ci fossero più righe sarebbero separate la virgola ok vediamo se funziona intanto e in effetti adesso abbiamo solo ladder ovviamente però è equivalente al ladder che avevamo prima bootstrap dist css bootstrap.min .css questo su sito di react bootstrap è scritta quindi se volete fare copia e incolla da lì è più comodo ok a questo punto cosa ci serve dopo ladder prima della domanda se vogliamo ricreare la pagina in bootstrap come l'abbiamo fatto in passato ci serve un prima della raw serve un un container ci serve un container che è fluid e aveva un class name quindi una classe mt3 perché era separato un pochino da avevo margin top di 3 nella versione precedente perché ci dà errore perché bisogna mettere il fragment perché in questo caso ha due elementi padre quindi qui ci serve per forza o un fragment o comunque un contenitore di tutto quindi ok dentro il container ci serve adesso la raw o la mettiamo dentro il componente che componente ci serve la domanda chiamiamola question description perché abbiamo già una classe abbiamo già un oggetto che si chiama question e che proprietà deve passare a question description la domanda quindi fake question a questo punto ci serve un nuovo file che chiamiamo question description punto jsx in cui andiamo a creare una funzione che si chiama question description a cui che riceve delle props e che ha un return di qualcosa e viene esportata quindi questo in un certo senso è una sorta di template function nome del componente props return e poi export che è esattamente quello che abbiamo fatto prima ok che cosa ha question description dentro ok prima di dire la domanda domandatore adesso abbiamo un container quindi ci serve adesso una adesso ci serve la raw e che adesso siamo di nuovo in in bootstrap no? abbiamo un container abbiamo una raw che va importata from react bootstrap poi spesso dalla secondo import di se ne accorge da solo e lo e lo crea su interno poi dopo una raw ci servirà una sì una colonna facciamo tutto qui o creiamo un'altra componente non un altro file un altro componente in questo caso tutto qui è una risposta che ha senso perché non è che dobbiamo poi riutilizzare quei pezzi non ci immaginiamo di riutilizzare quei pezzi di componenti di un'altra parte no? quindi possiamo anche fare tutto qui quindi col e allora quella col era una p md6 quindi larghezza lg md no no md6 si scrive così md tra le graffe 6 è una proprietà e e questo era una p quindi as p in modo che poi in html verrà rendita come pil p class col col md6 sto guardando da come era prima poi qui dentro c'era un strong che diceva question number e qui ci serve di nuovo props punto question punto ed magari scrivendo questo è ingiusto perché questo non è quello che abbiamo passato quindi nell'intera domanda c'è props punto questo punto id due punti e poi c'era in un'altra colonna dall'altra parte dello schermo il la mail quindi anche questo era un call md6 asp e aveva come class name textend per metterlo tutto a sinistra tutto a destra e qui poi c'era ask the buy e nella versione quella che vi ho dato per ultimo c'era uno span che aveva quella pill dentro quel badge randid pill e della text background secondary insomma quello che c'era nello stesso file css e qui c'era props punto question punto email e poi infine c'era il testo che era un'altra call asp di nuovo che aveva una classe che era lead e aveva come contenuto props punto question punto text questo era e questo è tutto rosso sempre per il motivo di prima perché manca la validazione quindi si può risolvere se noi per esempio proviamo a disattivarlo per l'intero file quindi compare questa riga all'inizio e disattiva questa validazione per l'intero file ok e poi bisogna importare ovviamente question description a sua volta e se andiamo qua adesso c'è comparso descrizione come prima ok adesso qual è l'altro componente che dobbiamo fare quello più più corposo sì sì doveva stare un'altra row funziona comunque perché ha finito lo spazio e va a capo però sì doveva stare un'altra row e a questo punto bisogna mettere un fragment all'inizio ora se abbiamo detto va bene è messo tutto qui se uno avesse voluto magari averlo un po' più un po' meno corposo potrebbe fare un componente per la parte iniziale e un componente per la risposta così era più modulare in un certo senso ovviamente senza aver l'idea di riciclare nessuno di quei componenti interni però era un po' meno lungo diciamo ok e comunque non cambia niente che è un po' la row perché tanto è una row dicevo adesso ci manca il componente quello un pochino più corposo che possiamo chiamare answers in questo answers ci serve come props abbiamo detto la lista di tutte le risposte quindi fake question punto get answers e dobbiamo come prima crearlo punto gsx e function answers props return e export default answers e qui e qui ora possiamo importare answers ok sì quindi non è un problema del fatto che c'è già una classe che si chiama answers no perché la chiama si chiama answers singolare se no si dovremmo ok la classe si chiama answer singolare e quindi quello è answers e quindi ci ci risolve il problema con il plurale se no se quella avessimo chiamata answers questa è appunto chiamarla answer component o qualcosa del genere ok cosa ci mettiamo in questo answers questo answer sicuramente è più complicato no perché abbiamo la riga col titolo quindi abbiamo una raw con dentro una call as h2 che ho scritto answers due punti e poi e poi abbiamo un'altra riga che è di nuovo una colonna di larghezza quindi lg10 e come classe avevamo mxauto per metterla centrata nella pagina e qui abbiamo un altro componente stavolta facciamo un altro componente perché se no diventa veramente lungo che chiamiamo answer table e in cui passiamo le props punto answer ok ok quindi abbiamo creato un componente al volo in cui ripassiamo la stessa props che abbiamo appena ricevuto tanto ci servono le risposte e a questo punto come creiamo answer table che cos'è answer table un altro componente quindi function answer table che riceve delle props che ha un return stavolta non deve essere esportato perché vive all'interno del file quindi non c'è bisogno di esportarlo answer table come è fatto answer table è una tabella bootstrap vediamo se me la importa una tabella bootstrap stripped che ha un tadd e qui bisogna costruire la tabella normalmente che ha un tadd con un tr e dentro il tr c'è il th che è date text autore score ed action poi si chiude il tr si chiude il tadd c'è un tbody e dentro il tbody ci sono le risposte quindi noi vorremmo per ogni risposta generare una abbiamo detto answer row che sarà un altro componente che possiamo fare sotto come anzi fatemelo fare così sparisce l'errore answer row tanto lo lasciamo vuoto al momento quindi return così come facciamo a fare tanti answer row quante risposte facciamo un ciclo cioè facciamo un map quindi un map su cosa se io scrivo answers.map non funziona perché answers dov'è answer è una è una prop quindi props.answer.map adesso è giusto quindi qui facciamo una map per ogni risposta quindi per ogni oggetto contenuto dentro questo creiamo un answer row e in cui passiamo cosa passiamo a questo answer row? che informazioni serve alla singola riga per renderizzarsi? la risposta la risposta che deve renderizzare quindi answer senza s come props quindi answer e poi dobbiamo anche definire abbiamo detto se ci vuole la graffa si ci vuole la graffa ma prima e dopo si si perché questa è un'espressione javascript quindi ci vuole la graffa e adesso questi sono tutti errori di validazione di prima fatemi fare così questo non era un errore in realtà di validazione ma era un errore che ci diceva cosa mancava cosa manca? la key perché qua stiamo iterando come se stessimo costruendo una lista e quindi qual è la chiave che dobbiamo mettere? che possiamo mettere visto che ci abbiamo già? answer.id esattamente che se non è di è univoco ora questa chiave noi non ce la troviamo nel answer.ro ma react ce l'ha se non la mettete questo answer.id al netto di es l'int che si lamenta per chi ce l'ha installato comunque react nel browser fa vedere un warning nella console del browser fa vedere un warning che dice id duplicato id assente e quant'altro quando abbiamo definito il table abbiamo chiuso in modo diverso c'è un motivo dove abbiamo chiuso in modo diverso? è un modo che è chiamato table all'interno di altro è chiuso in questo modo invece di così tu dici no è uguale quando non c'è contenuto come in questo caso è uguale se qui avessi il contenuto da scrivere allora non puoi chiuderlo così ma se non c'è come in questo caso è uguale è solo che Visual Studio Code autocompleta così e quindi l'ho lasciato autocompletare a lui ok a questo punto l'anser row che cos'ha al suo interno? che cos'ha al suo interno? ha una tr dovremmo dividere in due in answer data e answer actions quindi answer data sarà un altro componente che al momento non esiste che riceverà una risposta di nuovo props.answer e poi ci vuole questa answer action che anche questa è da creare che però non ha props quindi function answer data che stavolta ha delle props e function answer action che invece non ha props e possiamo dunque in answer data cosa ci mettiamo? ci mettiamo i vari td noi abbiamo già un tr bisogna mettere i td che rappresentano i vari elementi quindi react fragment perché i td sono tutti allo stesso livello se no quindi td props.answer punto il primo è la data quindi date.format anno 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 mese mese giorno a giorno e poi props.answer il testo è il secondo e poi punto email e poi punto score e in answer punto action in answer action invece facciamo un td che contiene un bottone bootstrap la cui variante è warning e contiene la adesso mettiamo un più ma insomma contiene le varie icone delle ecco se vogliamo usare le icone bisogna installare anche bootstrap icons e importarlo che invece non abbiamo fatto ancora quindi questo è un vote up per ora e poi c'era un lato bottoni che erano questa era primary ed era edit e poi c'era danger ed era delete bisogna importare e sì qui serve props e in teoria in teoria non è come se gli answer non arrivassero dunque props answers punto map e questo è giusto e passo answer scritto giusto ad answer row answer row riceve una props rispetto come answers rispetto Grazie. Ok, ci do, visto che sono le 11.30, ci do un'occhiata dopo, perché adesso non vedo quale sia l'errore eclatante, quantomeno. Quindi ci do un'occhiata ed eventualmente vi carico la versione sistemata. Vi ricordo che giovedì non c'è laboratorio, perché è festa, e noi ci vediamo martedì prossimo, dove continueremo a parlare di React e continueremo questo esercizio. Buona continuazione di giornata a tutti.